buonasera a tutti mi sentite mi vedete ok allora iniziamo subito che dire che emozione stasera è la prima volta che che faccio un web binar non so neanche come si si dice allora non so se mi vedete andiamo un attimo io ti sento benissimo adesso mi dovresti vedere anche si sta accendendo videocamera e le slide le vediamo perfetto ottimo fantastico ciao tatiana ciao ragazzi ciao a tutti buonasera ok stasera sono emozionatissimo perché è la prima volta che faccio una presentazione via web di solito mi piace fare face to face faccia faccia ma stasera vedrò il mio schermo e la mia bella no brutta faccia comunque a parte le battute poco divertenti e cosa succede ok perfetto allora l'opportunità che capita una sola volta nella vita una frase che a me ha segnato segnato tantissimo due anni fa quando ho iniziato in questo progetto mi ha mi ha veramente stravolto il mio modo di fare il mio modo di pensare diciamo che ognuno di noi nella nostra vita arriva un certo punto dove cambia arriva ad un incrocio ecco come dire arriviamo arriviamo ad un incrocio dove siamo scelti siamo costretti a scegliere o andiamo a destra o andiamo a sinistra qual è quella giusta qual è quella sbagliata io sicuramente vi sto portando in un mondo per chi lo conosce non nuovo ma per chi non lo conosce un mondo nuovissimo e vi posso assicurare che a me è cambiato tanto chi mi conosce chi conosce la mia storia sa di cosa parlo ok mi presento mi chiamo francesco cannone sono leader di schiaway invest group promotore del progetto e diplomato a corso master profi di schiaway invest group io ho esattamente 38 anni ho un bambino piccolo e sono sono felice di aver conosciuto questa azienda devo dire sempre grazie a un mio carissimo amico a stancio dragos che grazie a lui ho avuto modo di conoscere questa azienda di di fa parte di questa famiglia perché per me schiaway invest group è una sola e grande famiglia non lo dico perché devo vendere qualcosa ma lo dico perché lo sento fa parte di me ha cambiato il mio modo di pensare di vivere come sapete fino a qualche anno fino a qualche mese fa io facevo il fruttivendolo strano da dire ma facevo il fruttivendolo invece oggi giro l'italia il mondo grazie a questo progetto mi sta facendo conoscere persone mi fa conoscere altre realtà qualcosa che per me fino a qualche mese fa era tabù in più mi ha cambiato il mio modo di vedere la vita sotto un profilo finanziario adesso passiamo alle cose più importanti stasera vi voglio parlare di come il mondo è cambiato non so se qualcuno di voi conosce questa immagine esattamente ci troviamo a milano angolo corso buenos ares ok questa è una foto esattamente di 31 anni fa ma vedete che che bellezza che zero traffico alberi i tram sicuramente funzionavano perché perché comunque non c'è traffico poca gente in giro oggi la richiesta però è cambiata oggi la richiesta è questo lo stesso angolo ragazzi se non so se un attimo perché le persone scrivono che non ti vedono e non vedo neanche io la tua videocamera è accesa ma c'è un quadrato cioè nero e ok spegnere spegnere e riaccendere se non riaccendiamo subito se non ci sarà l'immagine forse meglio vediamo no non c'è ecco ma parendo ma molto molto probabilmente la connessione non permette di avere un'immagine buona io la vedo tutta sfocata vedi sfocato sì possiamo fare anche videocamera serve per forza la videocamera della mia faccia no in questa qualità meglio spegnerla perfetto togliamo ok l'importante che sentite bene la mia voce almeno è il mio messaggio che deve arrivare più che la mia faccia la mia faccia brutta lasciamola lì dietro lo schermo allora grazie tatiana allora per quanto riguarda questo questo angolo di milano vedete la scritta farmacia in una slide nell'altra c'è oggi la richiesta della gente veramente aumentata ci sono tante macchine non ci sono alberi smog è pericoloso andare in giro così ma veramente tanto pericoloso è cambiato il mondo ok rispetto a 30 anni fa ovviamente l'evoluzione dell'uomo ci ha portato a questo vediamo che altro è cambiato allora ecco qua questo sapete che cos'è un telefono giusto un telefono degli anni boh 40 50 oggi come sarà oggi c'è lo smartphone c'è chi di voi può fare a meno di questo attrezzo chi può lasciarla a casa se si se uno mi rendo conto io stesso se mi si scarica il telefono piuttosto entro dentro un negozio che vende le le batterie e lo mette sotto carica perché non riusciamo a vivere senza con questo telefono quante cosa facciamo fotografie mandiamo mail leggiamo il giornale anche dal telefono applicazioni di vario genere giochi non giochi serve anche per i nostri figli quando si lamentano gli diamo il telefono gioca è l'evoluzione l'evoluzione del mondo ragazzi l'evoluzione la tecnologia che va avanti avanza qui abbiamo i care le care vecchie lire wow ne ho avute anche un bel po di quelle lì anche quelle da 100 mila lire questo ha segnato un'epoca comunque il discorso del del cambio della moneta ok siamo passati da lira all'euro e oggi viviamo nell'epoca dell'euro ma stiamo entrando in un'altra epoca dove comunque la richiesta è cambiata una volta per mandare i soldi dovevamo per mandare i soldi da una parte l'altra del mondo dovevamo farlo io mi ricordo quando mi capita di spedire dei soldi o dovevi fare delle cose particolari in banca in posta il vaglia è vero c'è ancora oggi ma in realtà noi possiamo mandare i soldi in modo più molto più veloce acquistando un semplice bitcoin o comunque una parte di bitcoin e possiamo mandare i nostri soldi in tutto il mondo con un click cioè basta creare questo algoritmo che c'è sotto e noi riusciamo a mandare la moneta in tutto il mondo ragazzi è l'evoluzione il mondo cambia cambia sempre di più ok qui vediamo cosa cosa vedete dei banchi di scuola dei ragazzi che studiano qualcuno di voi casomai fa parte di quel di quei banchi lì l'istruzione quindi 30 anni fa 40 anni fa si studiava sui libri di scuola seduti ai banchi tutti composti e guai a scomporsi perché sono la maestra ci bacchettava con il righello sulle mani questa è l'evoluzione di oggi in alcune scuole in tante scuole si studia con cosa con il pc ma sapete cosa c'è di diverso in questa evoluzione solo la tecnologia una volta si portavano i libri e qua si portano i computer i tablet ma l'istruzione è come cent'anni fa e vecchia e antiquata e scarsa io vi voglio portare a pensare vedete queste tutte queste immagini tutta l'evoluzione se io vi dicessi che al mondo esiste un'azienda che ha tutto questo insieme che è in grado di darvi tutti questi prodotti in un'unica cosa vi spiego di cosa ci occupiamo noi perfetto guardate qua noi ci occupiamo di trasporti tecnologia economia istruzione e formazione ma che figata io sono entrato da due anni in questa azienda e sto imparando tutte queste cose tutte ci sono tutte forse forse ne manca ancora qualcuna perché comunque ci occupiamo anche di ecologia quindi di cose sostenibili di agricoltura stiamo arrivando anche con l'agricoltura la nostra azienda comprende tanti tanti fattori e sposare la nostra azienda oggi è veramente una cosa meravigliosa chi ha dato inizio a cambiamento di tutto questo chi ha dato inizio e tutto parte dall'accademia dell'investitore privato da colui che l'ha creata da andrei cavrato scusate la mia pronuncia che non è satta andrei cavrato è direttore swig autora autore fondatore dell'accademia dell'investitore privato investitore professionista leader del multi level marketing coach e business trainer di sviluppo finanziario e degli investimenti master di realizzazione di sogni io come faccio in ogni presentazione racconto brevemente la sua storia e posso dire che veramente un uomo a livello finanziario molto elevato è una persona che nel suo piccolo ha cambiato il mondo che gli è intorno in che modo questo uomo qui poco più di vent'anni ha cominciato questo uomo qui ha cominciato a giocare con i suoi soldini era stanco di lavorare stanco se non sbaglio faceva il muratore e voleva cambiare qualcosa di sé voleva cambiare la sua vita era stanco già pensando al futuro che avrebbe dovuto lavorare una vita portare sacchi su e giù per le scale sacchi di cemento spaccarsi la schiena per cosa per uno stipendio per i soldi cioè lui ha avuto la visione che non era giusto lavorare per i soldi ma doveva cambiare questo sistema doveva far lavorare i soldi per lui e lui ha creato un suo sistema dove noi lo chiamiamo l'alfabetizzazione finanziaria dove insegna le persone a gestire l'economia perché lui ha imparato sulla sua pelle a gestire l'economia secondo degli errori secondo delle cose che gli sono successe si è migliorato si è scritto delle regole si è dato delle regole e ad oggi un uomo a livello finanziario libero e grazie al sistema che ha imparato sulla sua pelle l'ha messo a disposizione di tutti creando questa accademia l'accademia dell'investitore privato scusate se ogni tanto mi inciampo nelle mie parole ma sono emozionato e voglio dirvi tutto quello che ho nella testa e questo uomo qui quattro anni fa ha avuto la possibilità di aiutare un altro uomo che aveva bisogno di una mano a realizzare un sogno e l'ha fatto perché oggi a distanza di quattro anni il sogno è stato realizzato ma a chi ha aiutato? Ha aiutato questo uomo qui Anatoly Junischi che è un signore di 70 anni circa è un ingegnere aerospaziale è un uomo veramente da stimare lui 40 anni fa ha avuto la visione di come sarebbe cambiato il mondo di come oggi avremmo vissuto una vita tra lo smog traffico nel trasporto merci che sarebbe stato lento perché? Perché comunque le strade sono intassate come una delle prime immagini che vi ho fatto vedere cioè oggi se vogliamo trasportare merce normalmente costa tanto perché comunque bisogna trasportare col petrolio quindi mettere gasolio, benzina o quel che sia e oltre a costare è lento il nostro trasporto è lento, è lento come 100 anni fa e non è un modo di dire, è la realtà e lui 40 anni fa ha avuto la visione di come sarebbe diventato oggi il mondo e ha avuto una grande visione la sua fortuna qual è stata? Che ha conosciuto Andrei Cavrato che gli ha chiesto io posso aiutarti, vuoi essere aiutato? Anatole Iunischi gli ha detto sì, aiutiamoci a vicenda, facciamo conoscere al mondo le nostre tecnologie quindi da una parte abbiamo un uomo che ha creato la tecnologia finanziaria da un altro la tecnologia di trasporto sono questi due signori qua, Anatole Iunischi e Andrei Cavrato si sono messi insieme, hanno firmato una partnership per 20 anni siglata nel 2014 e hanno creato dalla loro dalla funzione delle loro aziende hanno creato Skyway Invest Group la società per cui io collaboro, ok? Perfetto, vi spiego come funziona Skyway Invest Group Skyway Invest Group vende educazione finanziaria, formazione finanziaria su ogni pacchetto che voi acquisterete di educazione finanziaria vi verrà trasmesso a Skyway in questo modo l'Accademia dell'Investitore Privato aiuta Iunischi verrà trasmesso il 60% del ricavato che con questo ricavato realizza l'Eco Tecno Park che l'Eco Tecno Park è la struttura dove è stata creata la tecnologia il terreno dove è stata creata la tecnologia, ok? che si trova a Minsk in Bielorussia quindi la Canebian dell'Investitore Privato vende l'educazione finanziaria devolve il 60% a Skyway Skyway riceve e realizza l'Eco Tecno Park e dà in omaggio delle quote a tutti coloro che acquistano un pacchetto di educazione finanziaria ci regalano delle quote dell'azienda Skyway cioè io ragazzi vorrei un attimo farvi pensare al mondo ci sono aziende che fanno educazione finanziaria non voglio fare i nomi adesso ma queste aziende qua a fine del corso vi lasciano un libro, una penna, una stretta di mano grazie e arrivederci, ok? l'azienda Skyway Invest Group ci dà uno strumento per diversificare già compreso nel nostro pacchetto di educazione finanziaria una cosa del genere così io non l'ho mai vista non so voi se ne avete viste altre di meglio portatemene perché a questo punto le analizzo vuol dire che ho sbagliato tutto ma vi posso assicurare che ad oggi al mondo è l'unica azienda con questo sistema ok? perché noi siamo importanti per l'Eco Tecnopark? perché grazie a questa raccolta fondi che fa l'azienda Skyway Invest Group vengono devolti dei soldi appunto agli Unischi che lui ha realizzato ad oggi in 4 anni e mezzo ha realizzato un parco dove ha costruito tutta la tecnologia ha costruito le fabbriche, uffici ha costruito tutto quello che c'era da costruire e ha certificato perché i nostri mezzi sono già certificati ok? per questo noi siamo importanti per l'Eco Tecnopark perché grazie all'acquisto dei pacchetti di educazione finanziaria noi siamo riusciti inconsapevolmente a finanziare un progetto mondiale perché io lo chiamo un progetto mondiale ok qua vediamo un grafico dove parla delle tappe di realizzazione del progetto Skyway nel 78 la progettazione dove Unischi ha avuto l'idea dove ha avuto la visione come vogliamo chiamarla nel 2014 quando c'è stata la funzione di questi due grandimenti ok? da quel momento nasce l'Eco Tecnopark e l'Eco Tecnopark è stato realizzato in 15 tappe perché 15 tappe? perché è stato dato un valore economico ok? è stato suddiviso per 15 tappe ogni tappa ha un suo valore d'accordo? quindi siamo partiti nel 2014 nel 2015 è partita la costruzione 2016 la dimostrazione e certificazione l'abbiamo ottenuta quella dei mezzi urbani a dicembre del 2017 ragazzi è quest'anno quest'anno sono partiti i primi progetti il primo progetto ok? negli Emirati Arabi è un progetto legato all'Eco Tecnopark dove verrà realizzata una linea e forse già quest'anno vedrete la prima tappa realizzata e certificata ok? poi vabbè il 2020 ci vedremo nel 2020 e vi parlerò di cosa si tratta l'Ipo ok? come dice un nostro carissimo amico l'Ipo non è un ippopotamo l'Ipo è l'ingresso in borsa ma questo non è una cosa che ci può interessare adesso vi posso assicurare che prima di arrivare a l'Ipo c'è una cosa meravigliosa da imparare e da conoscere la nostra azienda ok? ad oggi siamo alla tredicesima fase chi entra nel progetto in queste fasi ok? avrà modo di ricevere dei dividendi da questa azienda a livello mondiale quindi oggi siamo alla tredicesima tappa ragazzi arrivati alla quindicesima si chiude questo nostro sistema che si chiama sistema di crown investing è un sistema che è stato creato per la prima volta da questa azienda è un sistema unico al mondo ok? allora io sono stato al parco quest'anno a luglio ho avuto modo di visitarlo e sono arrivato su e mi sono trovato questa cosa qua è un ponte voi provate a immaginare che Iunischi la sua mente è così avanti ok? che lui ha costruito ha ideato dei ponti con le stringhe che si usano per la tecnologia per le stringhe dei treni con le stringhe dei treni ok? è un qualcosa di meraviglioso veramente lui ha avuto una visione a di fuori di ogni cosa prima di andare avanti vi faccio vedere un video che a me piace tantissimo perché a me piace tanto perché comunque questo video qua che vi farò vedere adesso è un video che ritrae la visione perfetta di quello che Iunischi ha avuto 40 anni fa di quello che è oggi e di come l'azienda svilupperà il nostro progetto risorse della terra spaziali materie prime energetiche hanno un limite cui l'umanità si sta rapidamente avvicinando l'industria di oggi viola i processi naturali e inquina l'ambiente con sostanze nocive la situazione attuale peggiora a causa dell'uso umano di sistemi di trasporto obsoleti che sono uno dei fattori chiave dell'inquinamento se la situazione ecologica non cambierà nel prossimo futuro l'esistenza della civiltà umana sarà messa in pericolo al punto di non ritorno mancano solo due tre generazioni la società di ingegneria string technologies corporation offre una serie di soluzioni skywalt in grado di prevenire la catastrofe skywalt è la rimozione del componente pericolosa dell'industria all'orbita terrestre sviluppo di città lineari ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto sulla terra creazione di condizioni confortevoli ed ecologicamente pulite per la vita e la rinascita della terra che ha sofferto di attività umane a differenza della terra lo spazio consente all'industria di funzionare senza danneggiare l'ambiente allo stesso tempo assicura condizioni ideali per la produzione risorse spaziali materie prime energetiche inesauribili l'assenza di gravità e il vuoto profondo spaceway è un sistema di trasporto astro-ingeneristico riutilizzabile che consente di portare milioni di tonnellate di carico utile per ogni volo nello spazio vicino spaceway permetterà di creare una nuova infrastruttura nell'orbita terrestre laboratori scientifici centrali elettrici cluster industriale e molto altro la produzione orbitale apre nuove opportunità per l'uomo nella metallurgia l'energia solare l'estrazione mineraria grazie al trasferimento dell'industria nociva nello spazio vicino sulla terra sarà possibile creare nuove condizioni più confortevoli per la vita la città lineare di skyway è una forma di insediamento di persone distribuzione di strutture produttive amministrative culturali finanziarie di altro tipo collegate spazialmente in una lunga linea e collegate dal trasporto ad alta velocità sicuro ed ecocompatibile grazie a un nuovo tipo di comunicazioni si crea un ambiente di vita confortevole nella città in cui la superficie del terreno appartiene ai pedoni e alle piante verdi la città lineare skyway può essere costruita su territori deserti tortuosi e difficili da raggiungere anche con terreni complesi e anche sullo scaffale del mare quando si costruiscono città lineari viene utilizzata la tecnologia per la creazione di sistemi di supporto vitale autonomi e rispettosi dell'ambiente ecco che i skyway tali strutture rispettano un'attitudine attenta al mondo circostante e un uso ragionevole di ogni centimetro della terra attraverso fonti di energie rinnovabili nella casa ecologica entrano calore elettricità e acqua calda per l'inverdimento dei tetti dei territori attorno a case deserti e aree colpite di attività umane l'azienda sta sviluppando una tecnologia per la produzione di humus terreni fertili di tipo terra nera saturi di minerali utili l'humus skyway consente di aumentare significativamente la fertilità ripristinare terreni degradati fornendo loro una varietà di flora e la possibilità del loro uso per scopi agricoli grazie al posizionamento delle strade di stringa skyway sopra il terreno e all'uso di fonti di energie ecologiche l'impatto dannoso del trasporto sull'ambiente è ridotto al minimo linee di trasporto dedicate ai sistemi di controllo automatico rendono il trasporto skyway il più sicuro per tutti gli utenti della strada skyway offre l'opportunità di spostarsi rapidamente comodamente e in sicurezza in città tra città paesi e continenti i primi passi verso l'implementazione dell'idea di skyworld vengono fatti già oggi una squadra di oltre 700 persone che la pensano allo stesso modo designer progettisti architetti e molti altri stanno lavorando alla realizzazione del progetto dei sistemi di trasporto skyway il ciclo di lavori per la produzione di materiale rotabile è svolto da uno speciale ufficio di progettazione e tecnologie con produzione pilota gli specialisti del complesso di produzione effettuano il rilascio il collaudo e il debug di soluzioni tecnologiche e i principali know-how di skyway dal 2015 sul territorio della repubblica di bielorussia funziona l'ecotecno park un centro attivo di sviluppi innovativi dimostrazioni test produzione certificazione e l'ulteriore miglioramento delle tecnologie skyway nonché dello sviluppo di agroecotecnologie sistemi di trasporto skyway e l'inizio dell'implementazione di un progetto su larga scala skyworld il cui obiettivo è quello di salvare il pianeta terra per i propri discendenti bello no? a me questo video piace veramente tanto vi compito un segreto questo video io ce l'ho in inglese come suoneria del mio telefono perché ogni volta che lo sento veramente mi viene la pelle d'oca immagino immagino proprio il video ma immagino come viene rappresentato viene rappresentato con il nostro pianeta che sta finendo se non troviamo una soluzione la soluzione ce l'abbiamo e ce l'abbiamo veramente sotto mano quindi per tutti coloro che credono in skyway continuate a crederci sempre di più ma per coloro che sono nuovi buttate un occhio verso di noi perché noi veramente abbiamo la soluzione in grado di cambiare il mondo ma veramente tanto ok quindi abbiamo creato il ponte una volta creato il ponte lo creiamo dove nelle zone dove non riusciamo ad arrivare quindi dobbiamo creare un ponte che sia pedonale o che sia per le macchine o per qualsiasi cosa e arriviamo in luoghi dove fino ad ora è difficile arrivarci è facile a costruire costa pochissimo vengono utilizzati dei materiali molto leggeri quindi anche ecosostenibile ok quando abbiamo finito di costruire il nostro ponte noi abbiamo bisogno anche di muoverci velocemente e di costruire velocemente in che modo lo possiamo fare lo possiamo fare col drone col nostro drone ragazzi noi siamo anche con proprietari di un drone voi provate a immaginare con questo drone se noi dovessimo costruire una linea ferroviaria che passa in mezzo alla foresta Umbra qua in Italia ok in una situazione normale cosa si farebbe se noi dovessimo far passare una ferrovia dovremmo andare lì con l'escavatore andiamo lì con quindi con le ruspe dobbiamo togliere tutti gli alberi per mettere giù i binari e costruire la nostra linea ok in questa situazione noi cosa faremo porteremo il nostro materiale il nostro pilone o l'escavatore con il drone più grande al mondo lo porteremo nel punto esatto dove dovremo appoggiare il pilone se sarà sempre necessario appoggiarlo ok mettiamo giù il nostro pilone e mettiamo la nostra ferrovia su sospesa cioè voi provate a immaginare anche la velocità nella costruzione ma quanti soldi si risparmiano a fare questo quanta natura andiamo a salvaguardare per fare questo trovate un'azienda che fa le stesse identiche cose nostre se non meglio trovatela io vi ascolto una volta che abbiamo costruito il nostro ponte abbiamo riusciamo a portare il materiale con il nostro drone cosa ci costruiamo nei posti che fino ad ora facciamo fatica ad arrivare ci costruiamo le nostre case le nostre casiche ecologiche l'eco house al parco ragazzi è lì bella da vedere ma è spettacolare il modello è uguale a quella centrale quella che c'è al parco ok ma è una cosa fenomenale è bellissima è veramente bella è ecosostenibile ci sono pannelli solari idroenergia mini eolico è totalmente indipendente ragazzi una casa così dove la trovate è tutto ideato dalla testa di un uomo Anatoly Junisky tutta ideata da lui quindi ricapitolando costruiamo il ponte con il nostro drone costruiamo la nostra casa con il nostro drone andiamo a costruire nei posti dispersi ma solo noi possiamo arrivarci a queste case giusto? e se noi avessimo noi oppure Junisky avessi ideato e pensato un qualcosa anche per le persone che hanno problemi a camminare perché Junisky non ha pensato solo alle persone che possono camminare ma anche persone che hanno problemi a camminare voi sapete cosa vedete in questa immagine? una semplice auto elettrica giusto? un'auto elettrica che si ricarica tranquillamente con una sedia elettrica sedia a rotelle elettrica ma la cosa più bella di questo è che la persona disabile può salirci da sola e può mettersi alla guida senza l'ausilio di nessuno io ho visto scene dove persone che dovevano salire sulla macchina sedute sulla sedia a rotelle fare peripezie più assurde per sedersi sulla sedia a rotelle e cercare di caricare questa sedia o nel bagagliaio o nel retro della macchina o devono avere l'assistente o una persona che l'aiuta cioè ragazzi Junischi ha pensato veramente a tutti ma veramente a tutti questa è una cosa meravigliosa veramente meravigliosa ieri un sogno oggi in realtà io non ho avuto la fortuna di andare a visitare la tiera in Germania quest'anno ma posso dire che chi è stato mi ha portato quello che ha visto me l'ha portato con le emozioni e la parte più emozionante che hanno visto è l'uomo che abbraccia la sua creatura cioè Anatoly Junischi nella fotografia destra abbraccia la sua creatura cioè lui ha creato una limusina a tutti gli effetti ragazzi è un treno ma in realtà è una limusina questo mezzo qua viaggerà a 500 km orali l'abbiamo presentato alla fiera ok più grande del mondo dove presentano i mezzi su rotaglie tecnologie su rotaglie noi siamo andati là con la nostra tecnologia su rotaglia aziende come noi non ce n'erano non perché io faccio parte di Skyway Invest Group ma aziende come noi non ce n'erano non l'ho detto io l'hanno detto loro l'hanno detto in fiera l'azienda più innovativa eravamo noi per la seconda volta ok una cosa del genere è impossibile vederla vederla così ragazzi quest'anno quest'anno ci sarà il niente mi fermo perché se no dico qualche qualche informazione di troppo comunque ragazzi questo treno è un treno dove sarà in grado di trasportare 6 persone viaggerà a 500 km orari costruiti con materiali leggeri ha delle batterie su dove si ricaricano voi calcolate che può percorrere 300 km di questo treno a 500 km orari con il consumo di energia pari a carburante a 3 litri cioè come se la vostra macchina facesse 300 km con 3 litri di carburante voi trovate un mezzo trovate un mezzo che è in grado di consumare così poco trovatemelo scusate vi faccio vedere una cosa ecco qua a 2 litri gozzi o è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' assurdo. Dovete venire ragazzi. Perché io vado, non posso dirvi cosa vado a fare, ma posso dirvi cosa mi porta lì, mi porta il cuore, mi porta Swig. Io vado là per Swig, perché amo la mia azienda, amo l'azienda con cui collaboro. Swig ha organizzato un summit a Kuala Lampur in Malesia a livello mondiale e ci sta aspettando tutti. Ragazzi fate i biglietti, ci sono ancora dei biglietti, ho visto oggi perché ho avuto modo di prenotare per un'altra persona. Ce ne sono, prenotate, venite tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, fatevi una vacanza, anticipate le vostre ferie, venite in Malesia. Può cambiarvi la visione della vita, venite, 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 venite. Ok, ragazzi vi faccio vedere questa scheda, a me piace tanto, ok. Questa qui è la capitalizzazione dell'azienda Skyway in quattro anni e mezzo. Voi provate a immaginare che in quattro anni e mezzo sono stati fatti cento milioni di dollari di investimento. Ma l'azienda ha costruito la tecnologia, ha costruito le fabbriche, ha costruito gli uffici, li ha certificati, ha fatto tutto quello che doveva fare e anche di più, il valore della capitalizzazione dell'azienda Skyway oggi ha pari 5 miliardi di dollari. Ragazzi, ma 5 miliardi è una cifra stratosferica, è aumentato di capitale del 4.900%, ok. In quattro anni e mezzo il 4.900% è pari a 1.088% di aumento di capitale, annuo. Quindi in 12 mesi è aumentata del 1.088% in 12 mesi, 90% di aumento al mese, il capitale dell'azienda è aumentato del 90% al mese, cioè in 30 giorni, 3% di aumento al giorno. Non so se è stata chiara. Cioè questa azienda qui, quattro anni fa, ha messo in piedi un progetto che ad oggi aumenta di capitale 3% al giorno. Voi trovatemi un'azienda che aumenta di capitale 3% al giorno ancora in fase di start-up, ok, io firmo subito, subito. Non esiste nessuna azienda al mondo che aumenta di capitale in fase di start-up del 3% al giorno. Nessuna, nessuna. Ragazzi, per tutti coloro che acquisteranno un pacchetto di educazione finanziaria e riceverà in omaggio le quote di Skyway, avrà possibilità di richiedere dalla casa madre il certificato, ok, in originale. Il certificato. Ok, parliamo di numeri. Qui vi presento un signore che ha creato Facebook, ok? Questo signore qua, il 18 maggio 2012, ha lanciato Facebook in borsa, se non erro. Una quota valeva sui 38,32, ok? Se io oggi vi dicessi di sposare quest'uomo qui, e a parte le donne che forse lo sposerebbero, perché probabilmente è un bell'uomo, se io vi dicessi di sposare la sua azienda ad oggi, c'è la possibilità di acquistare le sue quote oggi, a quel valore voi lo fareste oggi? Penso di sì, però oggi sarebbe facile rispondere, ok? Guardate l'escalation che ha fatto dal 12 maggio 2012 a pochi giorni fa. Qua si parla del 2 febbraio, questa slide, ok? Nel 2 febbraio, no scusate, c'è un errore lì. Comunque si tratta di qualche giorno fa, ok? 190 dollari, 190 dollari, ragazzi. In pochi anni, dal 2012 ad oggi, che sono passati sei anni, l'azienda ha aumentato il suo capitale fino a 190 dollari. 190 dollari. Quest'uomo qui lo conoscete tutti, Steve Jobs, con la sua creatura, Apple, lo smartphone, ok? Il 12 dicembre dell'80, scusate, non riesco a vedere io, ok, perfetto. Il 12 dicembre dell'80, l'entrata in IPO a 0,51 centesimo di dollaro. Oggi, a distanza di, nell'80, quindi ai miei anni, 38 anni, guardate quanto vale Apple. 162 dollari. Voi provate a immaginare Skyway, che ha già noi all'interno dell'azienda, in pochi anni dove può arrivare. C'è un video di Cavrattov che gira dove dà i numeri. Ma non è senso dà numeri a caso, dà i numeri reali dell'azienda di come cambierà nei prossimi anni. E cosa porterà a noi, per chi ha solo mille quote. Mille quote, ragazzi. Mille quote omaggio. 162 dollari. Wow. Allora, passiamo a le cose pratiche. Per diventare partner, cosa dovete fare? Registrarvi gratuitamente, scegliere il vostro pacchetto formativo e iniziare la formazione. Quindi, voglio approfondire e acquisto un EIP. Educational Investment Program dell'Accademia dell'Investitore di Privato. SWIG. Questo qui è il nostro piore all'occhiello. Master Profi Offline. Master Profi è quello che io ho fatto, ragazzi. A me mi ha cambiato il modo di vedere. Quando entrate in un corso del genere, uscite che avete imparato dei segmenti di investimento, avete imparato come diversificare, avete imparato come gestire il vostro portafoglio. Non diventate broker quando uscite da qui, ma diventate delle persone che sono in grado di gestire il proprio portafoglio. Iniziamo da una piccola regola. Imparate a mettere il 10% da parte. Qualche giorno fa hanno fatto il business, hanno spiegato varie situazioni. Ragazzi, il Master Profi io lo consiglio veramente a tutti. perché è un corso fatto, oltretutto c'è fra qualche giorno, è un corso fatto in aula per tre giorni, dove vi viene insegnato come gestire il vostro portafoglio. Quindi, Master Profi è la via per la professionalità e il leadership, un posto in un mondo che sta cambiando. Le basi dell'educazione finanziaria, preziose conoscenze e competenze del leader in grado di creare grandi team di partner. Sono un leader formato, con nuove conoscenze, con nuove abitudini e in grado di condurre le proprie squadre ad alti livelli. Ed è vero, ragazzi, bisogna formarsi. Vi ricordate l'istruzione, dove vi ho fatto vedere la parte dell'istruzione? Noi facciamo istruzione, istruiamo le persone. Istruiamo le persone ad essere migliori. E non vi parlo come saper gestire i soldi, ad essere migliori a 360 gradi, ragazzi. Perché imparerete ad amare voi stessi, ad apprezzarvi di più. Perché? Perché non avrete lo stress di come arrivare a fine mese. Ma invece saprete come migliorare la vostra economia. Solo perché il mese scorso avete messo il 10% da parte del vostro stipendio. Sarete più ricchi già in un mese. Con piccoli cambiamenti del vostro modo di vivere. Ok? Questa è una cosa che io ho imparato adesso a Roma, quando c'è stato l'evento nazionale. E vi posso dire che io sono rimasto a bocca aperta. La capitalizzazione di SWIG, non parliamo di Skateway, di SWIG, in quattro anni. Quindi dal 10-2014 al 10-2018, la capitalizzazione è di 10 milioni di dollari. Investimenti in quattro anni di 26 mila dollari. L'azienda, quando è stata aperta, è stata aperta con 26 mila dollari. Ad oggi vanta di un capitale di 10 milioni di dollari, ragazzi. 10 milioni. Senza starvi a dare troppi numeri. L'800% in 30 giorni. 26% di aumento al giorno di capitalizzazione. Ragazzi, facciamo parte di SWIG noi. Noi abbiamo sposato questa azienda. E chi non l'ha ancora fatto, si sbrighi. C'è ancora posto? Ok? C'è ancora posto? Che cos'è Skateway? Skateway cosa ti dà? Ti dà vitalizio dalla tecnologia, perché il giorno che noi avremo costruito la tecnologia, ci darà una rendita su tutta la vita, per noi, i nostri figli, i nostri nipoti, è una rendita passiva. Voi siete proprietari di un'azienda, senza andare a lavorare, senza dover pagare i dipendenti, senza acquistare forniture, perché la rendita vi arriva comunque, che voi lo vogliate o no. Poi, se decidete di collaborare con Skateway Invest Group, avete la possibilità di fare un guadagno immediato, ok? Quindi, creando la vostra rete, potrete ottenere un guadagno, e la formazione da Multi Level Crown Investing. Wow! Io vi consiglio di guardare la storia di Petro Gialba, che è il nostro referente nazionale. lui ha imparato il sistema del Multi Level Crown Investing, appena è entrato, perché lui è stato tra uno dei primi ad entrare in SWIG, lui ha imparato questo sistema, ragazzi, la vita gli è cambiata, non volete guardare me? Guardate lui! Guardate dove è arrivato, dove l'ha portato questa formazione! Ok? Io lo ammiro, lo ammiro perché veramente lo sta portando lontano, e io farò i suoi stessi passi, come tutta la gente che fa la formazione dentro SWIG, vuole seguirlo, perché? Perché la sua formazione è veramente ad alti livelli, ok? Guardate qua, il guadagno immediato può essere, verrà distribuito del 35% sulla rete, quindi buttalo via, voi trovate un'azienda che distribuisce il 35%. Ok, facciamo i pacchetti di formazione mensili, l'azienda Skyway Invest Group dà la possibilità di acquistare la formazione anche a rate, non è un finanziamento, c'è la possibilità di acquistare un pacchetto rateale senza un finanziamento, voi vi prendete un impegno nei confronti dell'azienda a pagare in 10 mesi il vostro pacchetto che più preferite, prendo per esempio un pacchetto da, parto da quello più basso che abbiamo qui nelle slide, perché ce ne sono altri, ok? Un pacchetto da 2.500 dollari, l'azienda ci dà la possibilità di pagarlo 250 dollari al mese, l'unica differenza che ci sarà tra quello pagato a rate e quello pagato in un'unica volta, che quello pagato in un'unica rata ci saranno più quote, ok? Questa è la differenza, non è un finanziamento, ma è un obbligo morale che si prende uno nei confronti dell'altro, l'azienda ti dà la possibilità di acquistare lo rateale, è una promessa, ok? Poi per chi vuole può acquistare i pacchetti in un'unica rata e ci sono varie situazioni, ok? Parte dai 5 dollari ai 100.000 dollari, in base al pacchetto che andrete a scegliere avrete in omaggio delle quote, e qui ci sono dei pacchetti che adesso vi farò vedere, che sono molto particolari, sono l'Express Consultant e l'Express Manager, sono dei pacchetti dove vi danno maggiori quote, ma vi danno anche maggior formazione, ok? Ad esempio prendiamo il pacchetto del consulente Espress, ok? Vi dà il costo di 4.400 dollari e vi dà un grado da consulente che chi entra nell'azienda entra come partner, ok? Per arrivare al grado da consulente deve formare la sua struttura, crescere insieme alla sua struttura arrivare al grado da consulente. Qua ve lo si dà già subito, perché se trovate un pazzo come me che vi collabora e lo iscrivete nella vostra struttura e questa persona comincia a collaborare con voi e comincia a iscrivere persone, a vendere pacchetti di educazione finanziaria, voi guadagnate che lo vogliate o no, ok? E guadagnate in profondità. L'azienda SWIG per la formazione vi premia anche con un bonus di 220.000 quote, 220.000 quote di Skyway, ok? E' la cosa più bella. Oltre alle quote è il Master Profi in omaggio, perché se voi lo acquistate dal back office, il Master Profi che è il corso offline fatto in aula, vi costa 2.000 dollari e vi dà zero quote. In questo caso l'azienda ve lo dà in omaggio, perché? Perché avete speso 4.400 dollari in un'unica rata, vi dà un grado da consulente, vi dà 220.000 quote e il Master Profi in omaggio, ok? Per chi invece vuole di più, c'è il Business Profi. Questo è, ragazzi, è meraviglioso. Vi dà la possibilità di acquistare un pacchetto Business Profi a 1.550 euro al mese per 4 mesi. Dentro questo pacchetto troverete il Master Profi, la qualifica da consulente, le quote di Swig, la formazione per diventare conduttore del trainer gioco Genio della Finanza. Ragazzi, è un gioco spettacolare, il gioco Genio della Finanza. È un gioco che vi insegna a gestire la vostra economia. Io l'ho provato due volte, una delle due volte ho giocato anche con la Tetiana. Ragazzi, vi sembra veramente di entrare nella realtà e imparare a gestire i vostri soldi su un gioco? Fidatevi, può sembrare facile, ma è una cosa veramente difficile. In più, otterrete un Business Case con i materiali della formazione del Genio della Finanza e certificato di completamento del corso. Perché? Perché usciti da questo corso potrete insegnare ad altre persone a giocare al Genio della Finanza, quindi lavorerete giocando, ok? E guadagnerete dei soldi sui corsi. È un lavoro vero e proprio, ragazzi. Skyway Invest Group ha preparato veramente tutto. Chiedete ai vostri sponsor perché è un lavoro vero e proprio. Tanti dicono, ah, ma io investo. No, voi non investite. Voi acquistate l'educazione finanziaria. Investite, sì, nella formazione. Ok? Questa formazione vi porterà ad avere dei posti di lavoro. Una cosa importante, molto importante, ragazzi. Avete visto nel grafico delle tappe che siamo alla tredicesima fase? Perfetto. Siamo entrati da non molto nella tredicesima fase, esattamente a Santo Stefano. Questa qui è stata una fase particolare perché l'azienda ha fatto delle sottotappe, ok? Quando siamo entrati dalla dodicesima, la tredicesima fase è stato applicato uno sconto del 10% in più e in meno, scusate. Ci sarà una prossima tappa. Allora, scusate, ricapitolando. La tredicesima fase porterà al 40% di aumento del costo delle quote che avrete in omaggio. Ok? Nel primo passaggio, quindi dalla dodicesima alla tredicesima, c'è stato un aumento solo del 10%. Al 10 febbraio ci sarà un aumento ulteriore. Non sappiamo di che cifra. Tutto ciò avverrà il 10 febbraio 2019 all'ora 23,55. Ok? 21,55 italiana. In questa fase qui, per chi acquista un pacchetto di educazione finanziaria, riceverà in omaggio dopo questa data il 10% in meno di quote. Ok? Non so se sono stato chiaro. Adesso, dopo che vi ho parlato di tutto questo, scegliete il vostro sogno in queste figure. Qual è? Io scelgo la nave, la Lamborghini, la casa con piscina, l'aereo e ovviamente il nostro treno. Il palazzo lì non mi interessa. Voi quale sogno avete? Scegliete tra questi e realizzato, focalizzatelo e scegliete l'educazione finanziaria più adatta a voi. Noi adesso vi stiamo invitando a decidere di scrivere la storia con noi. Vorrete rimanere seduti a leggerla oppure vi alzate e iniziate a scriverla. Questi due uomini qua mi hanno cambiato la vita e la cambieranno anche a voi. Vi prego non rimanete lì davanti a uno schermo a dire ah sì dai solito business. No ragazzi. Informatevi, formatevi. Questa azienda ha creato un qualcosa che fino ad oggi non si è mai visto. non dico di acquistare il pacchetto di educazione finanziaria subito ma vi chiedo di farlo immediatamente perché questo vi cambierà veramente la vita. Scegli il tuo futuro passeggero o comproprietario? A voi la scelta ragazzi. Se rimanere lì a guardare noi comproprietari di questa tecnologia o volete far parte della nostra famiglia. Avete domande? Ok. Vediamo un po'. Io qui non vedo niente. va bene. Se come? Non ci sono le domande. Sì vedo. Ok. Nulla. E niente ragazzi. Bianchino ha scritto adesso che c'è gente che crede poco. C'è gente che crede poco. Ma sapete perché crede poco? perché questa qui gente comunque che si alza la mattina ed è negativa a prescindere che voi dimostriate o no della nostra realtà. La nostra realtà è completamente diversa da tutte le altre ed è difficile farla arrivare. Ragazzi dovete parlare col cuore dovete parlare quello che voi vedete voi dovete esprimere quello che vivete. Questa azienda va vissuta per crederci. Non è un investimento ragazzi ve l'ho detto anche prima non è un investimento. questa qui è una famiglia ok va vissuta bisogna credere in quello che si vede e in quello che si fa. Io non so se sono stato chiaro in tutti i punti se non lo sono stato chiaro vi chiedo scusa perché è la prima volta che faccio una presentazione davanti al monitor e vi ringrazio veramente se non avete domande a questo punto ah ecco aspetta eh cosa succederà quando le quote finiranno le quote allora finita la quindicesima fase le quote finiranno eh sì finiranno e chi si trova all'interno di questo calderone vivrà eh la possibilità di ottenere dei dividendi da parte dell'azienda eh che ci è stata omaggiata ok a livello mondiale cosa vuoi che succeda eh chi c'è c'è chi non c'è e si vedrà ok eh si dice sì è come dice Manule Baroni mettere mettere l'amore sì è vero eh sì comunque eh le quote finiranno ma non finiranno del tutto perché nasceranno dei progetti locali ragazzi e potremo finanziare quei progetti locali con i corsi di educazione finanziaria quindi eh la nostra azienda ci darà eh lavoro eh non oggi non domani ma per sempre Cavrato ehm ci ha detto a Roma per le prossime almeno cinque generazioni ci saranno i progetti locali sì ragazzi molto presto eh ci saranno dei progetti e ne sentirete parlare in Italia si sta lavorando su vari fronti mh al mondo eh si parla del progetto appunto di Dubai e Cavrato sta lavorando su un grandissimo progetto che è quello di Mosca dove andrà a fare tutta la circonvalazione di Mosca che sarà in grado di ehm come si dice di coprire i quattro punti nevralgici eh di Mosca dove ci saranno aeroporti metropolitani ragazzi voi provate a immaginare la metropolitana di Mosca oggi ad oggi è in grado di trasportare 8 milioni di persone al giorno ok voi provate a immaginare con la tecnologia del Skateway quante persone potremmo portare voi provate solo a immaginare voglio provare a ingrandire questa chat ok non riesco scusate ma per me ok ok sì adesso ci sono perfetto perché vi vedo in piccolo vedo le domande ma sono in piccolo perfetto oh adesso oh wow allora eh Francesco basta che vengono in Bielorius a toccare il progetto con le mani è vero è vero ma molto presto andremo anche a Dubai quindi ci sarà una data un po' più vicina ok è stato presente ah certo c'è anche il progetto dell'Expo di Milano ma quello ve ne parleremo più avanti è un grande progetto che ci sta lavorando Stanciu Dragos e e vi dico che ho avuto modo di visionare alcune parti anche io e vi dico che è un grande progetto però preferisco parlarne quando la cosa è in fase finale perché parlarne troppo presto a volte non porta bene ok Francesco io ho 4 milioni di quote di Skateway e ho aderito a questo progetto nel 2016 quando tutto era ancora sulla carta pagando le mie quote e quasi con tutti i miei bitcoin sei un grande sei un grande hai creduto in un qualcosa che veramente in pochi credono ancora sei un grande veramente complimenti Germania Berlino in Trans grazie Dubai e e linea trasporterà passeggeri Dubai allora Pasqualino ciao Dubai ci saranno in realtà tre progetti locali l'idea è quella e si parla anche del trasporto merci ma principalmente del trasporto passeggeri la linea dà le informazioni che ho ma prendila con le pinze non voglio dire qualcosa di troppo sarà pronta entro poco più di un anno ok e calcolate che il prossimo anno ci sarà Dubai l'expo di Dubai appunto ragazzi se avete altre domande io ci sono se no vi sento se non ho visto qualche domanda vi chiedo scusa perché ero impacciato cioè i lavori che sono partiti per le linee oppure l'ecotecnopark allora in realtà il progetto di Dubai fa parte dell'ecotecnopark detto bene Pasqualino sì ma è un progetto comunque a tutti gli effetti a mio giudizio come parere personale ok sarà un progetto che poi sarà non solo di 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 test ma sarà un progetto vero e proprio di trasporto di persone dopo la quindicesima fase apriranno i borsini interno ragazzi l'evento a Malesia servirà per capire alcuni aspetti di cui anche questo quindi aspettate l'evento della Malesia per chi non viene dopo di che potremmo darvi qualche info in più ricordate che comunque c'è ancora in pentola il discorso della criptovaluta quindi vediamo vediamo ok sono contento che investi i miei piccoli in Malesia sì sarebbe da venire per chi può ragazzi io lo consiglio allora ciao Francesco è prevista è consigliata la presenza di noi ad eletta progetto SWIG a Dubai ciao Giorgio fantastico Giorgio non lo so avremo maggiori informazioni dall'azienda se sarà inaugurata una linea come Ecotecnopark penso che l'azienda ci inviterà però non sono informazioni che abbiamo ancora portata di mano e finché a Petron l'azienda non gli dà l'ok Petron riesce a comunicarlo a noi e noi a sua volta a voi quindi bisogna attendere un attimino per queste informazioni hai ragione Massimiliano scusa Massimiliano adesso lo puntualizzo giustamente per contesia quando leggi le domande facci capire cosa le chiedono grazie ci mancherebbe scusami Massimiliano allora Cristian mal lavoro e non so se avrò le ferie approvate provaci Cristian dai vieni con noi noi siamo già una ventina di persone a partire dall'Italia più ne siamo più facciamo sentire l'urlo degli italiani o comunque da parte dell'Italia la ipo quando può durare approssimativamente il valore delle quote ipo è di un dollaro ci sarà un ipos o un ipov o entrambe Bruno è una domanda a cui io non ti so rispondere è una domanda che non ti so rispondere perché ci sono tanti cambiamenti all'interno dell'azienda e quindi io ti chiedo cortesemente se riesci ad aspettare ancora un po' di tempo per avere una risposta definitiva perché l'azienda non si è espressa esattamente su questo prima dobbiamo chiudere le 15 fasi dopodiché si può pensare all'ipo ok ma prima di entrare in ipo l'azienda vorrebbe avere due tre progetti locali funzionanti che diano una rendita perché tu provi a immaginare entrare in borsa con niente con una start up ci ammazzano quindi aspettiamo comunque maggior risposta da parte dell'azienda sotto questo aspetto ci vorrà ancora un annetto prima di avere una risposta più specifica su questo posso aiutarvi ancora in qualcosa ok vedo niente ragazzi io vi saluto vi ringrazio grazie a te Massimiliano grazie a tutti grazie Giorgio Bruno grazie Tatiana che ci ha assistito mi ha assistito perché io sono un po' imbranato con queste situazioni qua veramente un grazie di cuore a tutti vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo webinar ragazzi potas che e non mollare mai ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.